domenica 15 agosto è arrivata san giusto l'impresa ciclistica dei salesiani del triveneto 40 giovani di età compresa tra la terza media e la seconda superiore guidati da alcuni salesiani da alcuni giovani maggiorenni hanno viaggiato in bicicletta per 12 giorni con partenza dall'opera salesiana di este ed arrivo qui a portoviro un vero e proprio campo mobile contende cucine da campo e seguito che ha trovato in assisi e roma le tappe più significative domenica la carovana scortata dall'auto dei vigili urbani con mario mantovan alla guida è entrata festante a san giusto accolta tra due ali di familiari ansiosi di rivedere i figli una lunga pedalata di circa 1000 chilometri ma non solo anche un itinerario spirituale un'occasione preziosa per approfondire la propria fede attraverso momenti di preghiera di riflessione e di amicizia